Oggi impariamo a salire sulla canoa utilizzando uno stile un pochino più, come dire, comodo e sicuro che può essere utilizzato in qualunque tipo di invalio. Allora, per iniziare appoggiamo una mano sul pontile e una mano sulla canoa. La pagaia può stare qua davanti ma non ci servirà. Tiriamo un piede dentro alla canoa e ci carichiamo tutto il peso. A questo punto possiamo mettere anche l'altro piede nella canoa e tenerci in equilibrio solo col peso, solo utilizzando questa mano. E' importante non caricare peso sul pontile altrimenti la canoa ci si allontana. Tutto il peso va sulla canoa. Ci infiliamo bene dentro coi piedi e aiutandoci con una mano davanti possiamo sederci dentro la canoa. Infilare le gambe e infilarci dentro. E voilà! Benissimo! Adesso dobbiamo provare a scendere dalla canoa. Per scendere, dal momento che abbiamo staccato il gonnellino, dobbiamo tirarci fuori in questo modo. Chiudere i piedi e subito andare a cercare l'equilibrio con questa mano sul pontile. Con l'altra mano, con i piedi molto vicini, sul sedile proprio, cerchiamo di tirarci in piedi e ripetere il procedimento dell'imbarco al contrario. Quindi tirarsi su, in equilibrio sempre con una mano che ci dà sostegno, sull'appoggio. Uscire col peso e riportarci sul pontile. Benissimo!